All'indomani del nuovo incarico al coordinatore Raffaele Marasco, a cui oltre alla provincia di Crotone che guidava dal 2010 sono state da poco affidate anche le province di Catanzaro e Vibo Valencia, si è svolto un incontro con i volontari di queste ultime province a Vena di Maida. All'incontro era presente la responsabile della raccolta fondi per il centro-sud, Corin Genovesi, in rappresentanza della Fondazione Teleton, e il presidente regionale UMPLI Calabria, Vincenzo Ruberto, con il quale dal 2013 è stato siglato un protocollo tra la Fondazione Teleton e la stessa UMPLI che rappresenta la maggior parte del proloco in Calabria. L'incontro ha permesso di incontrare i vari volontari che dedicano il loro operato alla Fondazione e scambiare con loro esperienze, suggerimenti ed essere informati sulle attività e traguardi che la Fondazione Teleton raggiunge di giorno in giorno nella ricerca e sulle prospettive di cura delle malattie genetiche rare. L'obiettivo è quello di essere presenti sul territorio 365 giorni all'anno e non solo il periodo della maratona. A tale proposito, Corin Genovesi ha lanciato la prossima campagna di primavera che si terrà nei giorni 29, 30 aprile e primo maggio e che vedrà i volontari distribuire i cuori di biscotti. La presenza tra i volontari di Don Roberto Corapi, parroco di Staletti, ha suggerito l'idea di nominarlo quale guida spirituale del coordinamento. L'evento è stato curato dai volontari della Proloco di Vena di Maida, nella persona del presidente Francesco Panza.